Ora entriamo nel teatro marittimo che qui davanti aveva un portico con il pavimento in mosaico che vediamo girare anche qua, lì ci sono degli ambienti sostruttivi che tengono sulla scala della biblioteca greca e questo era proprio l'ingresso del teatro marittimo che voi vedete qui proprio con un'inquadratura assiale, aveva di lato queste due nicchie, una e una due e poi qui siamo proprio, oh c'è anche una tartaruga, siamo proprio nel punto assiale perché l'edificio ha un'isola centrale che ha diversi metri di diametro che è concepita come una domus, naturalmente non ci lasciano salire, era circondato da questo canale ad anello e poi c'era questo portico che è stato ricostruito negli anni 50, lì si vede anche come la luce sfavilla sulle pareti, si fa un gioco magico, i capitelli qui erano ionici, anche le colonne, all'interno invece c'erano delle colonne come vedete con tutte le scanalature e poi c'erano i famosi sfregi con animali marini di cui si vede un pezzettino lì che 99 su 100 era una coppia, lì c'è il ponte di accesso che è in muratura ma in realtà quando sono stati fatti i restauri si è visto che c'erano i binari per due ponticelli girevoli per cui l'imperatore se voleva girava questi ponticelli e qui aveva la privacy più totale.